e vuole andare per strada magari allora metti la cintura di sicurezza come assicura si stesso quando sale il motorino metti il casso allora assicura si stesso assicurati di credere con il ricordo di Allah perché tutto quello che dici che pronunci è una sicurezza è uno scudo che ti protegge da shaitan, dal diavolo come ha detto il profeta il ricordo di Allah fare il vikr è uno scudo poterissimo contro Satana contro i diavoli contro tutto il male e il ricordo di Allah e il ricordo di Allah